In casa del Termoli regna una certa tranquillità giustificata dalle due vittorie conseguite grazie a otto marcature realizzate, zero subite. Oggi gli allenamenti dei giallorossi si svolgono in quel di Guionesi. Per domani Giacomarro ha fissato una doppia seduta di allenamenti. Sul cammino dei giallorossi due partite di fila al Cannarsa contro la Fermana prima, contro la Civitanovese poi. Non sarà della partita contro la Fermana il centrocampista Damiano Manzillo che dovrà scontare un turno di squalifica. Conviene andare indietro nel tempo fino al girone di andata quando un Termoli in graspolvero mise a segno due successi consecutivi in trasferta addirittura contro una Civitanovese che all'epoca dei fatti era seconda in classifica. La squadra risponde presente alle sollecitazioni del tecnico siciliano. Le risposte arrivano eppure in maniera consistente. Si pensi al valido attaccante fuori quota Santoro, un vispo classe 96 che non chiede posti da titolare ma attende pazientemente il proprio turno. Quando viene chiamato in causa si dimostra sempre all'altezza della situazione come domenica quando è stato autore del 3-0 in quel di Sulmona. Esponenziale la crescita di Santoro che lo scorso anno si disimpegnava nell'Alexina, squadra di Lesina, comune natale del giocatore che si trovava in prima categoria pugliese. Un salto di categorie notevole per Santoro che è una vera creatura plasmata dalle mani di Giacomarro e che, ne siamo certi, nel prossimo anno riceverà la corte di molte squadre anche importanti della prossima quarta serie.